Stando a quanto dice l'esperto in mercato Fabrizio Romano, Olivier Giroud lascerà il Milan a partire dal 1 luglio 2024 per approdare in MLS, spondo a Los Angeles FC, società dove ha militato anche Giorgio Chiellini e dove milita adesso anche Ugo Ioris. Quindi si stanno cominciando a fare diversi nomi per la stituzione. Al netto di Davis, che però ad ora sembra essere una seconda opzione, si sono fatti fondamentalmente quattro nomi. Zirze, Seshko, Giocheres e Santiago Jiménez, un po' sorpresa, il centroavanti del Feyenoord. E in questo video ho preparato un bello schemino di numeri e statistiche che vorrei andare un pochino a svisciare con voi per vedere anche chi potrebbe essere, quantomeno idealmente sulla carta, l'attaccante insomma ideale per sostituire il leggendario Olivier Giroud. Stando a quanto sappiamo appunto il Milan ha stanziato questi fantomatici 50 milioni per arrivare a questo attaccante che sostituirebbe poi il francese. Ovviamente questi attaccanti, quindi Zirze, Seshko, Giocheres e Santiago Jiménez sembra che si potrebbero collocare in questo range di prezzo. Ma vediamo un pochino alcuni dati appunto e le differenze tra questi giocatori. In primis gli anni di nascita perché comunque Zirze è un 2001 così come lo è anche Santiago Jiménez. Ci troviamo Seshko che è bene un 2003 e un Giocheres che comunque è un po' più esperto, classe 98, farà 26 anni quest'anno. Quindi giocatori giovani però che comunque soprattutto Seshko ha già un bel pediglia alle spalle. Ma si rimane nel range di giocatori comunque molto futuribili. Anche se ovviamente un profilo come Seshko, essendo molto giovane, appena 21 anni, non è considerabile magari come un Giocheres che appunto dietro ha più anni di carriera. Ovviamente i giocatori militano rispettivamente Zirze al Bologna, Seshko all'Ipsia, Giocheres al Sporting Lisbona, Santiago Jiménez al Feyenoord. Ma c'è da aggiungere il parametro della scadenza contrattuale, perché fondamentalmente quello più vicino alla scadenza è Zirze che scade il contratto appunto nel 2026. Mentre Seshko e Giocheres nel 2028, Santiago Jiménez nel 2027. Questo perché è un dato importante? Perché dal 1 luglio 2024 rimarrebbero a Zirze soltanto due anni di contratto. Quindi a partire dall'estate del 2025 enterebbe nell'ultimo anno di contratto Zirze e quindi questa è l'ultima stagione dove il Bologna potrebbe veramente monetizzare, ovviamente a netto di una volontà effettiva di Zirze di abbandonare appunto il Bologna. Ma a livello puramente contrattuale appunto il favore dei pronostici a mio avviso potrebbe essere Zirze. Tre sono desti di piede, fondamentalmente l'unico mancino è Santiago Jiménez, un mancino come Giroud. Le fisicità bene o male sono simili, soprattutto Zirze e Seshko che sono alti rispettivamente 192-193 centimetri. Poi passiamo a Jokeres che è alto 1,87 e poi abbiamo quello un po' più punta old style, Santiago Jiménez 182 centimetri per lui ma forte fisicamente, nonostante sembra quasi anche più alto della sua statura, però comunque soltanto 182 centimetri, ripeto, come molti attaccanti di fine anni 90 e inizio anni 2000. Diciamo che per intendere la prima punta vera e propria nel concetto moderno 182 centimetri non sono tantissimi. Dopo dobbiamo svisciare bene il discorso presenze, muti giocati, gol e vari ed eventuali. Allora, fondamentalmente chi ha giocato di più di questi giocatori è Jokeres con le sue 39 presenze, 30 per Zirze, 34 per Seshko e 35 per Jiménez. Ma ci da dire una cosa, che mentre Zirze, Jokeres e Santiago Jiménez sono titolarissimi nel loro club, perché tutti comunque si aggirano tra i 2600 e 3000 passaminuti, tranne Zirze, ma Zirze ha avuto appunto quel periodo di infortunio che giustamente va a incidere sui suoi soli 2265 minuti giocati, altrimenti si avvicinerebbe alle medie comunque di Santiago Jiménez e Jokeres, contando che come media adesso si parla anche di Europa, soprattutto Jokeres e Santiago Jiménez, mentre Zirze non ha giocato Europa. Quindi ecco, dobbiamo contestualizzare questi numeri. Il meno presente è Seshko, che comunque ha giocato soltanto 1532 minuti, soltanto il 40-45% di titolarità per lui, se non ricordo male. Ricordo i gol, 11 per Zirze e Seshko, 36 per Jokeres e 24 per Santiago Jiménez. Ma dobbiamo valutare una cosa, perché uno potrebbe dire, e vabbè alla fine Jokeres ha segnato tantissimo, un po' di meno Jiménez, ma Seshko ha segnato quanto Zirze. Vero? Ma c'è un parametro. E io qui non ho messo il parametro del gol a partita, perché tutto va contestualizzato nei minuti giocati. Ebbene, la media peggiore ce l'ha Zirze. 11 gol, vale a dire un gol ogni 227 minuti. Quindi Seshko, uno che ha giocato molto meno, ha segnato un gol ogni 140 minuti. Quindi questo è un dato molto importante, perché il tasso di conversione dei tiri gol di Seshko è molto più superiore rispetto a quello di Zirze, quanto meno legato al dato delle partite. Ovviamente l'assistman, in questo caso, è Jokeres, con i suoi 14 assist in stagione. E questo cosa vuol dire? Che Jokeres è un grandissimo finalizzatore, ma anche un giocatore che si mette molto a servizio della squadra. Diciamo che tra tutti quelli che si mette meno a servizio della squadra, è Seshko, che è un po' il più finalizzatore. Ma andremo a vedere questa cosa dopo. Dopo vediamo il modulo, i moduli nei quali questi giocatori si stanno mettendo in evidenza. Il Milan adesso gioca con un 4-2-3-1. E gli unici due che giocano con il 4-2-3-1 negli spettivi club sono Zirze e Santiago Jiménez. Quindi capiamo bene come un processo di adattamento in un certo scacchiere di gioco potrebbe essere l'appannaggio del centroavanti del Bologna e del centroavanti del Feyenoord. Piccola dimenticanza della quale mi sono accorto soltanto in fase di editing. Da questo punto in poi, ogni statistica si riferirà esclusivamente ai campionati nazionali. Ho voluto escludere le coppe, perché appunto le coppe europee si intende, perché non tutti le hanno disputate. Il recordman per quanto riguarda i tiri totali è Santiago Jiménez, dall'alto dei suoi 90 tiri. Dopo vi è Jokeres con 78, Zirze con 72 e Sesco con soli 31 tiri in 34 partite. Ma andando a vedere le medie tiri in porta, 26 tiri in porta di Zirze, 16 su 31 per Sesco, 38 su 78 per Jokeres e 42 su 90 per Santiago Jiménez. vuol dire che Sesco è il primatista per percentuale di conversioni tiri generali, tiri in porta, con ben il 51.6%. Che cosa vuol dire? Che Sesco è il più simile a un profilo come Giroud o in centro avanti alla Treseguet, qui è un giocatore molto cinico in area di rigore che vede molto la porta. Pensate, Zirze è quello che è la percentuale più bassa, il 36.1, ma si sa che Zirze è fondamentalmente un centro, è un centro avanti tipico, un centro avanti che ama arretrare sulla gioazione per poi sviluppare il gioco. Quindi, come tiri in porta invece? Chi tira di più in porta? È Santiago Jiménez, con 3.98, tiri a partita. Dopo vi è Jokeres, con 3.27, e terzo Zirze. 2.87, Sesco, 2.77. Ma ricordiamo sempre che Sesco ha giocato molto meno ha detto di Zirze che terzo in classifica, al netto appunto l'infortunio che ha avuto Zirze, perché altrimenti Sesco avrebbe giocato infinitamente, da virgolette, meno degli altri tre. La percentuale dei passaggi, quindi qui dobbiamo vedere anche un discorso in ottica di un ipotetico cambio di filosofia offensiva del Milan, un giocatore che potrebbe anche essere utile alla manovra mianista, in questo caso il primatista è Zirze, appunto perché è quello un po' più adatto ad arretrare la sua gioazione, quello un po' meno punta, che però fa sviluppare meglio i compagni di squadra. La sua percentuale di passaggi e uscita è 76.2, dopo vi è Jokeres 72.9, dopo Santiago Jiménez a 67 e Sesco a 65. Ma ripeto, di tutti, il miglior uomo squadra, il miglior attaccante di manovra è Zirze. Jokeres invece è il più cattivo in campo, quello che è un po' più tignoso, un po' più ignorante sugli avversari, perché ha la percentuale di ben 60% di contrasti vinti. Pensate, Sesco invece, solo il 12.5. Sesco è un giocatore che deve essere libero, che è una bella corsa per la sua fisicità, a 193 centimetri, il più alto tra tutti, ha una dischietta corsa, è un po' più l'aeroni, un po' più il 3-seghe, un po' più il crouch, molto più bello da vedere, che non fa della sua caratteristica principale il gioco di squadra, lui lo metti lì e deve tirare in porta. Dobbiamo analizzare ora delle variabili, che può essere l'adattabilità al calcio italiano, e da questo punto di vista, ragazzi, Zirze è il più adatto. In più, il rapporto costo-contratto, tecnicamente, Zirze è quello un po' più arrivabile, perché sì che, in riferimento, insomma, a lunghezza del contratto, il cui Zirze scade nel 2026, quindi due anni o un anno prima degli altri, ma comunque, insomma, è un prezzo non altissimo per un giocatore classe 2001 che sta dimostrando ottime caratteristiche. Come mi dico le assist, ovviamente, il vincitore netto, il più adatto, sarebbe Jokeres. Come caratteristiche di Giroud, invece, Sesco. E qui, mi viene in mente una cosa. Come ragionerà il Milan? Vorrà cercare un centro avanti come Giroud e mantiene lo stesso impianto offensivo? Allora, come caratteristiche, il migliore è Sesco. Se invece si fa un discorso di ipotizzabile cambiamento dal punto di vista offensivo, quindi avere un appunto un po' più di manovra, il migliore è Zirze. Anche perché comunque è quello appunto che è più specializzato nel ruolo rispetto agli altri ed è più adatto al calcio, è più abituato al calcio italiano. Come caratteristiche appunto attuali nel Milan, quindi quelle più simili a Giroud è appunto Sesco. Altrimenti io opterei eventualmente su Jiménez se si vogliono cambiare i termini di gioco o addirittura su Jokeres se si vuole un centro avanti un po' più esperto. Quindi Jokeres sappiamo che è tre anni più anziano di Jiménez. Facendo un pochino un riassunto, se ci divesse appunto questo cambio un'impostazione valuterei altri profili altrimenti di questi quattro oltre diciamo Sesco perché se l'attaccante del Milan del futuro è quello che deve rappresentare più il Giroud io investirei su un centro avanti come Sesco. Ovviamente bisogna poi adattare il tutto alla rosa del Milan perché comunque bisogna dire che se già tu hai degli attaccanti abbastanza giovani conviene puntare su un 2003 o magari conviene puntare su un 2001 o un 98. Secondo me Sesco sarebbe il più adatto al Milan ad ora però avrebbe bisogno quanto meno di una stagione per adattarsi meglio al calcio italiano. Ma ti serve un centro avanti pronto. Quindi io se dovessi investire opterei per due o vado su Zirze oppure su Jokeres e da lì partirei a costruire uno scacchiere che enfatizzi le caratteristiche di questi giocatori sebbene siano diverse se invece poi vieni Sesco è d'accordo cerchi di farlo rendere nel miglior modo possibile. Quindi sintetizzando diciamo che personalmente tendere un pochino a lasciar perdere Santiago Jimenez e mi fare un pochino sugli altri. Ma il Milan deve per prima cosa sedersi a tavolino e decidere quale impianto di gioco utilizzare per la prossima stagione. Se avere un centro avanti più simile a Giroud o no. Fatemi sapere nei commenti la vostra. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!